Preside, si ritorna a fare l'Open Day in presenza, anche se il liceo ha organizzato l'Open Day anche virtuale per accogliere tantissimi studenti che hanno intenzione di iscriversi al primo anno proprio qui al liceo. Sì, infatti siamo molto lieti di poter ricominciare ad accogliere i visitatori in presenza, naturalmente con il rispetto di tutte le norme di sicurezza, però siamo felici finalmente di vedere le persone che vengono qui di persone, possono vedere direttamente come è fatto il nostro liceo e possiamo presentare la nostra offerta formativa. Un'offerta formativa sempre ricca, non solo dal punto di vista delle materie scolastiche, quelle classiche del liceo, ma anche di tante attività extrascolastiche proprio per arricchire il bagaglio culturale e non solo degli studenti. Certo, certo, questo è quello che caratterizza la nostra offerta formativa. Oltre un'alta qualità dell'offerta curriculare, ampliamo anche la nostra offerta con tantissimi progetti, di cui molti anche progettazioni PON, cioè con fondi europei. Siamo troppo felici di potervi accogliere di nuovo qua da noi ed è la modalità più efficace, più immediata e anche quella che risulta, diciamo, per noi più gratificante, perché conoscere di persona una futura utenza scolastica è sicuramente la cosa auspicabile. Nel frattempo, per tutti quelli che si stanno affollando, perché dobbiamo dire che c'è da gestire ovviamente in relazione anche alle norme anti-Covid, c'è da gestire questo flusso di persone che desidera venirci a conoscere, venire a vedere il nostro liceo, toccare con mano quello che si fa, quello che solitamente siamo soliti offrire alla nostra utenza, però ecco il motivo per cui abbiamo diversificato queste venute è proprio questo, cioè per offrire alle persone che vogliono conoscerci una maggiore e agevole possibilità di conoscerci. Quindi vi aspettiamo numerosi e così staremo un po' insieme.